Le persone parlano molto di ricette e diete di taxa. Tuttavia, non tutti sanno come aiutano il nostro corpo. Il processo di disintossicazione è profondo e complesso e dobbiamo capire come disintossicare il fegato e i reni in modo naturale. Il corpo soffre dell'eccesso di tossine prodotte dopo aver mangiato cibi industrializzati e trasformati. Oltre all'accumulo di grasso, l'ingestione di prodotti nocivi può causare infiammazioni, problemi al fegato e all'apparato digerente. Nel video di oggi vi insegnerò la ricetta per un potente succo di taxa con carote e papaya. Ma cosa c'è di così speciale in questi due ingredienti? La papaya è nota per stimolare l'intestino, grazie alle sue elevate quantità di fibra solubile, che facilitano la formazione e l'eliminazione delle feci. La papaya contiene anche papaina, un enzima che aiuta l'intestino a digerire cibi pesanti, come la carne rossa, e, ha una gamma diversificata di antiossidanti naturali, che aiutano il fegato ad eliminare, le tossine più facilmente. Le carote sono ricche di minerali, vitamine A, B, C, E, e potenti antiossidanti che migliorano i polmoni, funzionalità renale ed epatica, inoltre alla prevenzione di diversi tipi di cancro cro. Un altro vantaggio offerto dalla carota è che aiuta a curare la stitichezza. Previene la formazione di calcoli renali, e purifica gli intestini, eliminando le tossine e assorbendo correttamente i nutrienti. Quando la mangiamo cruda, la carota ci dà gli enzimi necessari per la regolazione dell'apparato digerente. Ora che sai come possono la papaya e le carote proteggere e disintossicare i tuoi organi digestivi, vediamo come preparare questo succo di taxa. Annota gli ingredienti, 600 grammi di papaya, 400 grammi di carote, 700 grammi di acqua potabile. Tagliateli a pezzetti la papaya, la carota e inseritele nel frullatore con un po' d'acqua. Quando il composto sarà liscio, spegnete il frullatore e aggiungere l'acqua rimanente. Frullare di nuovo. Ecco fatto il tuo succo è pronto. Non aggiungere zucchero o dolcificante. Conserva in frigorifero. Bevi il tuo succo disintossicante durante il giorno in piccole porzioni. Fallo per due giorni, ma non consecutivamente. Ripeti il processo una volta alla settimana. Noterai un miglioramento del tuo apparato digerente in pochissimo tempo. Condividi la tua esperienza con noi. Se ti è piaciuto il video metti mi piace e condividi. Grazie. Grazie. Grazie.